Musica Bella a tutti ragazzi eccomi qui con la quinta parte della Herobrine Mansion ragazzi dopo aver svuotato l'inventario come vedete su di ciò che mi aspetti lì ok allora possiamo iniziare a fare casino qua non c'è niente scrivania oh madonna che noia troviamo rope a bizzeffe qua posiamo questa tanto chi se ne frega ecco tutti indiamantati no no c'è pure l'enderman lì dentro ok morti dai ma scusa questo dura più uh ragazzi altra spada di diamante però non ci serve a niente uh dai dai madonna che noiosi che noiosi sti zombie e c'è un altro enderman o è la stessa stanza può darsi speriamo non ce ne siano due perchè non voglia di sclerare madonna muori sii oh tre anni che ti colpivo ecco non c'è niente tutto convinto non c'è niente uh ragazzi si settiamo lo spawn oh ok ragazzi era una trappola solo io ci casco in ste trappole è vero era chiuso c'è niente aia eh sparisce come ha fatto sono i vestiti di pirati dei ah forse è l'armatura d'oro che è così qua si poteva dormire ragazzi io vado a dormire dall'altra parte ma che cacchio è ah l'enderman cavolo l'abbiamo fatta arrabbiare adesso merda se ne è già accorto oh basta con sti suoni qua ci sono dei dischi da inserire sicuramente che cacchio è che cacchio è boh di là cosa c'è merda guardate là ma ti facevi il bagno scusa però io rompo le scatole a tutti o si spauna nel bagno insieme a me slenderman oh che noia e vai con un'altra sfida con sti maledetti zombie e gli arcieri camper guardateli guardateli oh sudici pericolo spider ragni madonna madonna una testa aia chissà cosa c'è sopra ah areita the spider vabbò you can use your weapon to cut spider webs ok ragazzi uccidiamo lo spider aerobrine lo uccidiamo magari nella prossima parte vorrei capire solo quale ah ecco questo è il capo sicuramente si ok rinasciamo rinia rin boh dai non c'è più i tuoi amici dai dai non c'è più i tuoi amici dai dai sudici o ragno ah la chiamata fatta da dio sta dentro un map ragazzi dai crepa come fanno a mettergli tanta vita così non lo so ah eccolo dai no ce n'è un altro ah no sono i ragnetti di merda ma non era il re allora cioè non era il capo perché qua la strada prosegue no ne spawn altri ecco dai dai toglietemi st'esperienza da dosso dai dai che usciamo ah no ah ok ho messo il cd però come si fa uscire cavolo madonna l'esperienza che noia davanti davanti agli occhi ok si è riaperto abbiamo ucciso il boss e ragno cos'è? ah si arrivavamo da fuori forse era anche meglio però alla fine è sempre uguale ok no di nuovo sto qua no che noia ragazzi che noia dai dai muori fai 360 giri ecco sei contento ora bravo mi hai ucciso adesso hai fatto arrabbiare king ok dai muori non l'ho preso di un pelo dai muori madonna ragazzi se muoiono se muore il pigman zombie io ho vinto perché è quello più forte che scassa quelli li uccide in 5 secondi madonna che noia adesso guardate e sono già morti è il pigman zombie che rompe più di tutto ma guarda ma guarda ma guarda l'era ancora la lui va sudicio un'altra spada di diamante abbiamo fatto la collezione mettiamo questa qua che è tutta rotta e ci prendiamo a questo dai qua cosa c'è ecco i nanetti schifosi cosa c'è che sopra chi ho chi ho no un altro se perdo un minuto cioè perdo un minuto per uccidere ognuno di questo adesso ti butto giù è una parola dai 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 guardate quanti colpi una sessantina non c'ho voglia di rimorire dai dai madonna e muori madonna muori che cavolo e che madonna sti pigman oh crepi non muori ancora oh è assurdo è assurdo madonna se ne incontro un altro giuro che è sclero sclero no dai 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 muori eccoli eccoli sembrano dei bimbetti merda dei bimbi di minchia guarda lì oh wow è scassato ok siamo dove prima si ok ragazzi ci manca solo aerobrine da uccidere e poi dobbiamo salire al piano sopra penso se ci sia o finisce qui non lo so che ci rivediamo nel prossimo video da kingblazers è tutto ciao a tutti e ci si vede in un altro video ciao ciao